Eccoci, ritorniamo questa volta proprio all'interno di uno dei negozi di Momenti d'Oro e sono ovviamente in compagnia del titolare Dino Verlezza, bentrovato Gian E vedete che ci sono due ragazze qui accanto a me, accanto a noi Clarissa, bentrovata Salve, buongiorno E Erika, ciao Buongiorno Allora, facciamo un attimo un passo indietro Nella scorsa puntata siamo stati al tarì dal signore Edoardo Nocerino con la sua fantastica campanella portafortuna di Capri Sì, iniziamo proprio dal signore Edoardo perché grazie a lui, alla condivisione, alla collaborazione ci ha dato la possibilità, qui a Momenti d'Oro ma non solo, nei negozi Momenti d'Oro in giro la possibilità di poter far osservare questa campanella fatta a mano, 100% italiano ci tengo a dirlo e la possibilità di regalare la fortuna ai nostri clienti e quindi ai nostri amici Infatti, poi vedrete dopo meglio tutti noi indossiamo queste famosissime campanelle che le trovate ovviamente sotto forma di ciondolo per una collana come bracciale, come anello insomma, e chi più ne ha più ne metta Guarda, a me mi piacciono molto queste campanelle al di là che sono l'oggetto più col del momento ma anche, mi piacciono molto per la loro personalizzazione che il suo reguardo, lui e la sua squadra, la sua famiglia che realizzano, mettono in campo, che realizzano questa campanella diversa dalle altre e diciamo che rappresentare questa campanella e adesso sono queste due bellissime ragazze e un volto per Momenti d'Oro Esatto, allora, lanciamo questa nuova iniziativa perché Momenti d'Oro è davvero un fiume in piena l'iniziativa, un volto per Momenti d'Oro e la campanella Porta Fortuna di Capri che cosa succederà? Sì, abbiamo scelto due volti molto belli nonché pure clienti, insomma perché ritengo che loro sono delle bellissime ragazze quindi un grande portafortuna per il negozio e quindi saranno proprio i volti a stare qua nel negozio in questi spazi espositivi per tutto l'anno, voglio dire quindi è un modo per far vedere questa campanella in modo diverso Allora, il cliente che diventa protagonista di Momenti d'Oro Clarissa, che cosa pensi di queste iniziative? Allora, c'è da dire che noi, grazie a Dino abbiamo l'opportunità di entrare da clienti e poi formare un rapporto di amicizia che è la cosa più importante al giorno d'oggi ed essere consigliati quando entri in un negozio da un amico fondamentalmente però alla fine la parola Momenti è quella che ci raggruppa quella che noi sentiamo perché è un momento di gioia è un momento che ci lega quindi queste campanelle ci portano Quindi Momenti d'Oro E allora chiediamo anche ad Erika ecco, sarai presente qui in una di queste bacheche indossando appunto questi splendidi gioielli come sei arrivata da Momenti d'Oro? Allora, io sono arrivata da Momenti d'Oro sempre grazie a un'amica di Dino noi siamo qui perché io all'inizio devo fare un semplice regalo quindi sono arrivata qui come cliente e appunto poi si è staurata una vera e propria amicizia ogni volta che entriamo in questo negozio ci sentiamo a casa e appunto ci regala sempre dei Momenti d'Oro Ecco, i Momenti che regala Momenti d'Oro sono unici Io in verità io a loro li vedo proprio come un grande posto a fortuna e quindi per questo ho voluto dare a loro la possibilità di rappresentare proprio la fortuna con la campanella Ma diciamo anche che i gioielli in generale ecco, sono la gioia, il momento di gioia delle donne in assoluto Non sempre sono d'accordo, i mariti però Beh, allora perché sì, diciamo Però voglio dire una cosa, voglio dire una cosa che qua da Momenti d'Oro c'è sempre una possibilità perché c'è sempre una campanella per tutti perché è alla portata di tutti quanti quindi voglio dire, non è che costa chissà quando però è la personalizzazione che poi la rende così bella, così particolare ma posso dire che veramente è alla portata di tutti Quindi, mariti, all'ascolto, regalate ecco, c'è anche il mio alle spalle della telecamera regalate un sorriso alle vostre donne portando come omaggio una bellissima campanella che trovate qui da Momenti d'Oro siete liberissimi di sceglierla come più vi pare ecco, sotto forma di collana, vi dicevo prima di bracciale, di anello, di orecchini scegliete una campanella e regalatela alla vostra donna perché veramente, come diceva anche Dino è davvero alla portata di tutti e ovviamente ribadiamo che è tutto made in Italy non c'è nulla d'acciaio ma è tutto appunto argento e l'abbiamo visto dal signor Edoardo che c'è un laboratorio, possiamo dire, futuristico dove veramente tu l'hai visto la lavorazione è tutta fatta a mano anche le campanelle, anche quella che indosso io adesso è dipinta a mano, non c'è una campanella che sarà mai uguale all'altra ricordiamo ancora che sarà possibile venire qui al negozio oppure alle cinque porte perché con il nostro combi con il quale ne partiamo qua nel negozio si ha sempre la possibilità di poterle visualizzare tutte le campanelle ma non solo, teniamo tanti bei gioielli e quindi scegliere quella più che adatta quella più che piace quindi alla portata veramente e poi diciamo, non sveliamo ancora tutto ma diciamo che nelle prossime puntate spiegheremo anche come sarà possibile ricevere in omaggio una campanella mi raccomando voi state sempre attenti e seguite sempre la pagina Facebook di Momenti d'Oro e con i Momenti d'Oro Events su Instagram seguiteci perché troverete tutte le novità e scoprirete piano piano anche come ricevere questa campanella io ultimamente addirittura sto cercando tra le clienti pure qualche suggerimento da poter personalizzare una campanella perché siamo sempre alla ricerca sulla personalizzazione di portare avanti una cosa bella una cosa che è la più cool del momento allora seguiteci e ci trovate come sempre qui a Baronissi oppure anche con il Combi al centro commerciale Le Cinque Porte allora vi aspettiamo numerosi numerosissimi, non numerosi per regalarvi tanti Momenti d'Oro e tanti Momenti di Fortuna e tanti Momenti di Fortuna